Dopo due anni di studio, trascorsi nei laboratori italiani di Mafra, analizzando le migliori materie prime oggi disponibili, hanno portato alla nascita di Waterless. Siete pronti a rivedere i vostri concetti sul lavaggio senza acqua? Chiariamo subito un concetto. Da oggi non dovrete rivedere le vostre normali procedure di lavaggio. Quello che vi abbiamo sempre raccontato e descritto vale fino ad oggi e vale da oggi al futuro, ma avrete un nuovo, una nuova freccia nel vostro arco. Waterless è il prodotto in grado di risolvervi un problema, quello del lavaggio quando siete in assenza di acqua. Può essere una mostra, può essere la preparazione di un'auto prima di una fiera, un lavaggio in condizione di mobile. Bene, Waterless è un'ottima soluzione. Il prodotto è un concentrato. Vuol dire che può essere diluito da 1 a 5 a 1 a 15. Grandissima economicità d'uso. Il prodotto può essere utilizzato anche sotto il sole. È qui che si è concentrato il maggiore lavoro, il maggiore sforzo del centro di ricerche di Mafra. Utilizzare materia prima che è in grado di lavorare anche sotto il sole, anche su superfici calde. E questo è un plus incredibile. Adesso vi mostriamo come si utilizza, perché al di là di tante parole, è la pratica a rendere chiaro il potenziale di Waterless. Prima di cominciare un lavaggio Waterless, valutate sempre la situazione di partenza. Laddove sull'auto ci sia dello sporco ostinato, sarà opportuno un pre-wash classico, magari da effettuare con un traffic free remover, oppure in una pista self-service. Considerate anche che Waterless in diluzione 1 a 5 è in grado di fungere da emolliente, quindi da rimuovere parte dello sporco più ostinato. Detto questo, la parte meccanica, quindi il vero e proprio lavaggio Waterless, sarà il cuore, il centro delle vostre operazioni. Quindi dovrete spruzzare e erogare il prodotto in modo uniforme sulla superficie da trattare, lasciarlo agire dai 30 ai 60 secondi e poi delicatamente rimuovere con un panno in microfibra pulito. Noi suggeriamo un panno in microfibra un po' più spesso, in grado di inglobare lo sporco e ridurre al minimo la possibilità di graffiare la superficie. Un secondo panno in microfibra pulito vi aiuterà, vi consentirà di ottenere la massima finitura. Waterless vi aiuterà anche a migliorare il look dell'auto. Il prodotto è in grado di donare un effetto seta, incredibile, sorprendente per un Waterless. Migliorerà la lucentezza e donerà anche una protezione alla superficie. Waterless può essere utilizzato su ogni superficie, quindi carrozzeria, plastiche, vetri, ovunque abbiate bisogno di pulire, Waterless sarà la soluzione giusta.